Presidente, la Fondazione è ancora protagonista di un evento culturale di grande spessore e di grande importanza. Noi abbiamo inaugurato questa chiesa e questo restauro nella primavera del 2014, però questa chiesa si trova a Saltara, è abitualmente chiusa e quindi non è molto frequentata. Abbiamo ritenuto opportuno, datteli una grande importanza storica e artistica di questo fresco, di farne una mostra fotografica che inaugureremo lunedì 5 alle ore 17. Quest'opera merita di essere vista e studiata attentamente, quindi è l'occasione per rivedere quest'opera, perché questa chiesa è abitualmente chiusa, per visitarla bisogna telefonare al Comune di Saltara che poi la fa aprire dalla Proloco, sono sempre molto disponibili. Quindi noi è riportare l'attenzione su quest'opera tanto importante che rimarrebbe chiusa e poco visitata e poco studiata. Quindi io invito davvero a intervenire. L'evento avrà luogo in questo modo. Alle ore 17 nella sala di rappresentanza ci sarà una conferenza del dottor Peter Aufreiter, che è il direttore della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, insieme con la dottoressa Valazzi. Poi alle 18 ci trasferiremo per l'inaugurazione. La mostra resterà aperta tutti i giorni, dal 5 di dicembre al 22 dicembre, dalle 16.30 alle 19.30. L'ingresso, come sempre, è gratuito. Palazzo Bracci Pagani, Sala Pagani al piano interrato. Fantastico.